ciao a tutti oggi prepareremo l'insalata di riso prosciutto e melone il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono riso basmati prosciutto crudo melone rucola olio acqua sale formaggio pepe e succo di limone diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua il sale posizionare il cestello con il riso chiudere con il coperchio e cuocere per 15 minuti temperatura varoma velocità 2 il riso è cotto trasferire in un insalatiera condire con olio succo di limone e il pepe ed amalgamare bene lasciare intiepidire il riso si è intiepidito aggiungere il prosciutto crudo il melone amalgamare amalgamare unire il formaggio e la rucola riporre in frigo per 30 minuti prima di servire insalata di riso prosciutto e melone grazie e alla prossima ricetta insalata di riso Grazie per la visione!